Se anche tu soffri di eczema alle mani o da qualche altra parte del corpo sai che quando cominciano a diventare così rosse e irritate vuol dire che sta per esplodere l'eczema e ultimamente sto provando un rimedio naturale che mi sembra funzionare bene e quindi volevo condividere e fare un video in modo che magari può aiutare qualcun altro che da anni praticamente fin da quando ero piccolo come me ha questo problema di eczema Cosa uso praticamente? Questa è argilla, argilla verde, praticamente è una polvere, una terra che tu poi mischi con l'acqua e fai questa specie di fango e questo fango lo metti sulle mani dove sta uscendo l'eczema e in pratica serve a seccarlo, a farlo seccare in modo appunto naturale perché naturalmente appunto l'argilla è terra, è un elemento naturale e soprattutto se vuoi anche risparmiare ti costa molto molto meno rispetto alle creme che di solito ti danno per l'eczema in cui a volte c'è dentro magari anche cortisone o cose di questo tipo quindi dopo 8 anni non ti fanno più niente, diventi immune e anzi ti fanno, come è successo a me, ti fanno diventare le mani ancora più sensibili quindi ti capita ancora più spesso che ti venga l'eczema perché le tue mani sono praticamente distrutte da tutte le cose chimiche che ci sono dentro nella crema questo fango appunto lo usi comunque come se fosse una specie di crema quindi lo spalmi sulle mani o dove ti sta uscendo l'eczema nella descrizione del video ti metto anche il link dove puoi comprare questa argilla si trova abbastanza facilmente anche nei negozi, non so, le parafarmacie o cose di questo tipo comunque anche su online trovi diversi negozi che lo vendono quindi appunto guarda la descrizione che ti metto un po' di link e questo in pratica è il risultato dopo che ti sei spalmato l'argilla quindi la metti appunto sulla pelle ovviamente la cosa è più semplice se fai un lavoro in cui puoi tenere su questa argilla per un po' di tempo devi tenerla finché non secca e dopo semplicemente la lavi via con un po' d'acqua quindi per me che lavoro al computer diciamo è fattibile perché anche se ho l'argilla sulle mani non mi impedisce di lavorare e di solito la metto tre volte al giorno la metto la mattina dopo che mi sono lavato poi dopo pranzo dopo che ho lavato i denti e poi di solito la sera anche lì dopo cena dopo che ho lavato i denti e ne metto su un po', faccio asciugare e poi appunto mi lavo e dopo quando mi sono tolto l'argilla lascio asciugare ancora un po' la mano e di solito ci metto dell'aloe quindi ho delle piante di aloe che adesso ti faccio anche vedere semplicemente taglio una foglia e uso il gel e adesso ti faccio anche vedere appena si è asciugato questa mano come la metto su quando l'argilla si è seccata appunto puoi lavarla ci vogliono boh 5-10 minuti magari fai anche in tempo a metterla e toglierla prima di andare al lavoro quindi la mattina e poi eventualmente la metti solamente due volte al giorno quindi la mattina e la sera e prova quindi adesso semplicemente accendo l'acqua e la sciacquo via e viene via senza nessun problema una volta che ho lavato le mani le asciugo e lascio asciugare bene finché la pelle non si secca quasi diciamo sai anche tu appunto sei l'ezema che di solito la pelle è molto secca dove, soprattutto dove esce e quando è seccata abbastanza diciamo quando è asciutta metto su poi l'aloe ovviamente ti chiederai anche dove prendo le aloe e semplicemente le coltivo in casa quindi da una piantina molto piccola che ci avevano regalato qualche anno fa facendola crescere è diventata molto grande e quando serve taglio una foglia e la uso e praticamente è come se avesse delle creme infinite perché potresti anche comprare la crema di aloe ma nella maggior parte delle case anche lì ci sono dentro comunque delle sostanze chimiche e in ogni caso le paghi molto molto di più che comprare una piccola pianta quindi se vai da un fiorista a un vivaio è facile che le trovi e hanno bisogno davvero di poche cure quindi d'estate e in primavera le puoi tenere in balcone o anche in casa direttamente e d'inverno sicuramente se sei al nord Italia se fa freddo è meglio tenerla in casa perché soffrono il freddo però il resto dell'anno niente sono molto resistenti hanno bisogno di pochissima acqua e niente quindi in pratica ti fai la tua crema di aloe direttamente in casa che è praticamente semplicemente il gel che c'è all'interno delle foglie per usare il gel dell'aloe quello che faccio è semplicemente tagliare un pezzettino della foglia e da lì praticamente tiro fuori il gel e il resto della foglia lo tengo per i prossimi giorni o per le prossime volte in cui devo toglierlo praticamente quando l'hai tagliato poi è come se si cicatrizza si chiude e quindi poi rimane dentro ovviamente una foglia di questo tipo può durare magari una settimana due massimo però comunque usandolo spesso usandolo tutti i giorni due o tre volte più o meno la si finisce prima che si secchi effettivamente tutta ho tagliato questo pezzettino adesso lo toglie a metà così esce bene il gel e lo metto sulle mani e questo è il risultato quindi questo è il gel che ti puoi mettere dove hai l'eczema in pratica serve per un po' ricostruire la pelle e visto che tu hai fatto seccare molto l'eczema con l'argilla in questo modo da una parte lo secchi quindi lo fai in qualche modo ritirare e dall'altra cerchi di far tornare in vita la pelle e quindi ridagli energia la mano con il gel aloe quindi praticamente fare una specie di patina protettiva che gli dà appunto un po' insomma l'aloe a vari principi se c'è bisogno che hai le mani molto secche e quindi magari tra le dita ti dà fastidio puoi anche usare semplicemente anche qua naturale o un po' d'olio olio d'oliva semplicemente per tanto con la pelle così secca si assorbe subito oppure io di solito faccio una crema con burro di karité e olio d'oliva semplicemente li scaldo assieme in una pentola a bagnomaria e anche quella secondo me è ottima per nutrire la pelle senza appunto prodotti chimici anche qua se ti interessa eventualmente sapere dove prendere il burro di karité ti metto dei link nella descrizione questo è un altro step di tutto il processo quindi vedi che praticamente dove c'era la pelle secca pian piano viene via e praticamente sotto rimane la pelle un pochino messa meglio quindi l'eczema si sta riassorbendo e tutti i pezzettini di bollicine o comunque pezzi di eczema insomma che è stato seccato vengono pian piano via e quindi la mano comincia a tornare a una condizione più accettabile poi dopo un po' di giorni che fai questi impacchi con l'argilla e eventualmente se riesci dopo a mettere o l'aloe oppure la crema di olio di oliva e burro di karité le mani più o meno tornano a posto appunto come detto se hai l'eczema e se lavori non so in giardino se fai qualche lavoro comunque dove le mani soffrono abbastanza comunque ti esce sempre però insomma dopo anni e anni che ho avuto questo problema secondo me questa soluzione con l'argilla è quella con cui mi trovo meglio quindi costa poco perché appunto poi nella descrizione del video ti lascio eventualmente i link dove compro l'argilla e anche il burro di karité se ti serve insomma con con una terra naturale che costa molto meno delle creme solite chimiche riesci a risolvere ovviamente ci vuole magari un po' più di tempo per per farle tornare a posto quindi non è come una crema col cortisone che magari in due giorni ti fa sparire l'effetto ci vuole magari una settimana o anche di più se è molto grave però sono molto più contento così quindi niente mi auguro che questo video possa aiutarti se anche tu hai questo problema di eczema alle mani o anche da qualche altra parte se hai qualche domanda a riguardo chiedimi pure nei commenti qua sotto chiedimi pure